Be Wise, Be Well la piattaforma multisensoriale denominata Wise Mirror, un innovativo sistema di automonitoraggio che mira a correggere lo stile di vita dell'individuo. La piattaforma è stata messa a punto dal consorzio Semeoticons, composto da 11 istituti di ricerca che hanno collaborato al progetto europeo coordinato dal CNR di Pisa e rappresentato dall'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione e dall'Istituto di Fisiologia Clinica. Questo specchio è in grado di acquisire dati del volto della persona che si specchia e analizzarli per identificare dei segni che sono correlati al rischio cardiometabolico. È intelligente, quindi fa delle cose che lo specchio normale non fa, ma è un po' magico perché guarda oltre il nostro aspetto, quindi lo specchio non si ferma semplicemente alla nostra apparenza ma guarda anche la composizione della pelle, guarda la funzionalità dei tessuti del cutanei e guarda appunto le nostre espressioni, va beh anche equipaggiato di un sensore che analizza il nostro esalato, insomma fa tante cose, quindi acquisisce tante informazioni, le elabora e poi le integra in una stima del nostro stato di benessere. Lo scopo dello specchio magico è quello di ridurre il rischio cardiometabolico e di modificare con un orientamento del tutto personalizzato alcuni fattori significativi della genesi delle malattie stesse, quali obesità e sovrappeso, errata alimentazione, sedentarietà, fumo e abuso di sostanze alcoliche. Usando il wise mirror che è uno specchio come dire apparente ma che dietro ha una tecnologia molto complessa, di certo abbiamo la possibilità di valutare la rotondità del volto che nella ricostruzione in tre dimensioni dà delle misure quantitative che possono essere correlate con lo stato di nutrizione, in particolare obesità e sovrappeso, ti dà delle idee sul per esempio potenziale accumulo di colesterolo nel volto, in particolare nella regione intorno agli occhi e ti dà informazioni su potenziali accumuli di prodotti di glicazione avanzati e della diabete che sono correlati appunto con la malattia diabetica. Questi sono i parametri che noi abbiamo studiato, in particolare considerando che lo specchio magico è stato ideato proprio per la prevenzione del rischio cardiometabolico, perciò certi tipi di malattie che sono correlate a possibili sviluppi di diabete di tipo 2 e a malattie carriose. Lo wise mirror raccoglie dati principalmente sotto forma di video e immagini e ricostruisce il volto in tre dimensioni, alla ricerca di segnali indicatori della malattia. I dati raccolti, elaborati con metodi e algoritmi, sono integrati in un indice di benessere, la cui evoluzione temporale descrive lo stato dell'individuo. Un sistema di coaching, mediante messaggi e suggerimenti, guida l'utente, che deve comunque sempre rimanere in contatto col proprio medico. Lo specchio magico non sostituisce il medico, però è un supporto al medico. Non è al momento lo specchio un apparecchio medicale, potrebbe benissimo diventarlo visto i risultati, ma si prevede già, si è già previsto dall'inizio l'interfaccia col medico di famiglia. Il progetto Semeoticons è il risultato della collaborazione tra realtà differenti, ma allo stesso tempo è scendibili, come ricerca, tecnologia e impresa. Quest'ultima oggi molto attenta alle esigenze dell'utente finale, che affida sempre più la propria salute alla tecnologia. C'è un'evoluzione tecnologica sempre continua che migliora il benessere delle persone. È importante la collaborazione tra le imprese e chi fa ricerca, quindi gli organi di medicina. È importante perché con la tecnologia che avanza, che avanza a passi da gigante, le imprese oggi ovviamente sono principalmente alla ricerca del profitto, però hanno bisogno comunque della componente medica per certificare sicuramente le attività che fanno. raccogliere una mole di informazioni, un tempo non gestibili, saper leggere queste informazioni e soprattutto saper passare queste informazioni in un modo leggibile all'utente finale.